Venivamo dalla partita non bella, quella col Fasano, ho chiesto ai ragazzi di più, devono dare molto di più. Oggi, almeno dal punto di vista temperamentale, eravamo in campo, eravamo ben messi, eravamo ordinati. Possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, c'è ancora tanto da migliorare, lo sappiamo. Però devo dire che abbiamo fatto comunque una buona partita su un campo molto difficile, perché venire qui a Francavilla in Sinni è difficile per tutti. Quindi sono molto contento del risultato, ma anche di tante cose, naturalmente c'è molto da migliorare. Mbrisic è stato sicuramente anche cinico, determinato, sfruttando il primo a fondo nel primo tempo e sfruttando poi quella ripartenza nel finale. Nel secondo tempo effettivamente Francavilla ha dato anche qualche spazio in più, forse la gara si poteva anche tentare con qualche ripartenza di chiudere la prima. Sì, abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla, anche dopo il gol nel primo tempo. Comunque una palla è passata sulla linea, potevamo fare meglio nell'attacco alla porta. Al secondo tempo si sono creati più spazi, potevamo essere più bravi nella gestione di alcuni palloni per andare dentro. Però non è facile, sono le prime partite, i ragazzi devono conoscersi, la squadra è completamente nuova. Abbiamo avuto sin dall'inizio, soprattutto nei primi minuti, il pallino del gioco in mano. C'è stata quell'occasione di Raimo con la parata del portiere del Brindisi. Poi c'è stata questa azione, dopo due minuti a mio avviso dubbi, anche se a me non piace parlare di questo, perché l'arbitro ha visto così, ma penso sia dubbi, anche perché se fosse stato rigore quello, così come ha fischiato, c'era anche uno su Nole al primo tempo, più o meno della stessa entità. Però non è che la partita si è chiusa là, noi abbiamo continuato a giocare, abbiamo spinto. Il secondo tempo serviva quell'episodio per provare a riequilibrare la partita, perché poi era normale che il Brindisi si doveva abbassare e ripartire in contropiede, anche con la velocità dei giocatori che aveva. Però noi direi che abbiamo rischiato pochissimo, anche il secondo tempo, siamo stati là, abbiamo crossato, magari non abbiamo chiuso bene l'area di rigore, però poi abbiamo preso un gol a pochi minuti dalla fine su una rimessa laterale che dovevamo sicuramente evitare per provare fino alla fine a pareggiare la partita.